Un breve ritmo per mostrarvi gli ultimi arrivi di taglierino. Questo è un taglierino con lo short corto, con il beige tutto sfoderato, leggerissimo. Lo potete utilizzare sia come l'ho indossato io con una bella camicia colorata, che la mostro meglio con le piumette della linea di nascimento. L'abbiamo riassortita, è piaciuta tantissimo con la particolarità delle piumette. Io l'ho messa dall'interno, però se a voi piace potete anche metterla dall'esterno con un bel cinturone. Lo stesso taglierino potreste coordinarlo con questa bella camicia della linea Céline, particolare come manica e anche come fantasia. Poi sempre sul short del beige abbiamo riassortito il taglierino della linea Morgan, questo con la gonna in ecopelle. Qui l'abbiamo coordinato con un tortino con il cielo nella parte sotto, effetto comunque particolare, sempre lineare. E il giacchettino ha la particolarità dei bottoncini gioiello. È un taglier alternativo, è molto bello, diciamo anche messo con una bella ciabattina, con un anfibio. Sono articoli molto belli. In store sono arrivati tanti articoli di cerimonia, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra app Close Fashion Store. Oppure vi aspettiamo in store. Ciao a tutte!